Bene amici dopo aver visto la 5 di Samsung eccoci con la 3, fratello minore perde qualche decimo di pollice per quanto riguarda il display, non è più full HD ma solo HD, in realtà è comunque un bel display, perde purtroppo però il sensore di impronte digitali, perde anche 100€ il che non è assolutamente male, soprattutto in questa colorazione gold che poi gold non è, è più champagne, è veramente molto molto bello, andiamo a scoprirlo insieme. Bene ed eccolo lo accendiamo, sul lato destro vedete oltre al pulsante di accensione c'è lo slot per la nano sim più la micro SD di espansione, dietro camera da 13 megapixel più flash led, ragazzi dietro è veramente bellissimo, soprattutto in questa colorazione, vetro davanti, vetro dietro leggermente bombato ma secondo me la verniciatura oro che è più champagne bronzo rispetto all'oro è sotto il vetro che è trasparente quindi dona una sorta di tridimensionalità a questa cover posteriore, veramente gran lavoro sui materiali da parte di Samsung, da questa parte invece i pulsanti per alzare e abbassare il volume, sotto il jack per le cuffie, la micro USB e l'altoparlante di sistema. Andiamo a sbloccarlo, purtroppo come vi dicevo in fase di presentazione ha perso il sensore di impronte digitali quindi è solamente un tastone fisico, i tasti back e multitasking purtroppo anche qua come su A5 non sono vibranti e soprattutto l'elettroilluminazione si spegne subito e si accende solamente se andiamo a premerli quindi non se premiamo sul display. Davanti abbiamo la fotocamera da 5 megapixel, il sensore di luminosità, prossimità e vedete è presente anche la solita schermata briefing. Wi-Fi che è monoband, non è dual band, entriamo nelle impostazioni vi faccio vedere giusto quattro cose. 5.1.1 la versione del software, ovviamente gira sotto la touch, l'ultima versione quindi con la possibilità dei temi, batteria veramente tanto tanto performante. In linea con quella di A5, anche se è una batteria più piccola, 2300 mAh, probabilmente display leggermente più piccolo, meno definito, oltre a un processore meno energia, fa sì che la batteria duri veramente tantissimo. Queste sono le statistiche di una giornata stress tipo, è vero, l'ho attaccato un paio di volte al PC ma con il mio uso GPS 2 ore e 50 di schermo sono ancora al 39%. Insomma, giornata stress si arriva a sera tranquillamente con ancora un 15-20% di batteria senza utilizzare gli ottimi risparmi energetici che la touch ci ha insegnato e ci ha fatto tanto apprezzarne i precedenti terminali, soprattutto su S6 dove sono quasi indispensabili. I temi ovviamente sono scaricabili dallo store online di Samsung, vedete ce ne sono tantissimi ma parliamo di display. Perché magari a qualcuno il fatto che il 4,7 pollici, tra l'altro ragazzi il 4,7 pollici guardate come si tiene bene in mano, anche se è un telefono un po' scivoloso, quindi a qualcuno potrà scivolare ma vedete l'impugnatura è sempre molto buona e precisa e qualcuno potrebbe storcere il naso sulla definizione solamente HD. Ma è un super AMOLED che è un po' il punto forte di tutti i Samsung questa tecnologia, vedete angoli perfetti, colori molto buoni anche con la taratura standard, si possono tarare su quattro livelli, neri assoluti, i bianchi sono buoni, sotto la luce del sole diventa praticamente fluorescente, quindi si vede molto molto bene. Insomma niente da dire sul display che è anche ben oleofobico. Andiamo a fare una chiamata, chiamiamo subito il 190, la ricerca in rubrica c'è la solita della TouchWiz, non è particolarmente intelligente ma questo è un telefono piccolo quindi non è un problema andare poi a ricercare i numeri che magari ci siamo persi nella lista. Sentite la qualità del viva voce non è altissima ma la chiamata è buona, sia in ricezione, sia dall'altra parte ci sentono molto bene quindi anche il microfono è ok. Andiamo a vedere invece un po' come gira, apriamo i nostri soliti programmi, il gestore delle pagine Facebook in primis. Vedete non è velocissimo ad aprire i programmi e soprattutto appena aperti stentano un po', segno che le memorie non sono velocissime e questo processore Lexington 7580 quad core un pochino fa fatica. Magari proviamo ad aprire anche Twitter, giusto per aprire, lo uso con HotSuite Twitter, giusto per aprire due programmi che i più utilizzano quotidianamente. Ovviamente è presente il multitasking, anche qua vedete come sia abbastanza veloce però devo dire che qualche lag questo telefono ce l'ha. Altra piccola pecca che però è assolutamente ovviabile installando altre tastiere, la tastiera standard di Samsung ha i tasti che non vibrano. Io ho ovviato, vedete, installando la tastiera stock di Android che mi piace più anche per quanto riguarda la correzione ortografica. Vedete, adesso mi ha corretto, secondo me funziona decisamente meglio. Bella l'applicazione calendario con la visualizzazione mensile più quello che dobbiamo fare durante la giornata e andiamo a vedere un pochino come si comporta il browser di Samsung. Quindi questo non è Chrome perché qua c'è il browser di Samsung. Sono entrato nella review del Redmi 3 Note. Vedete, ci ha messo abbastanza poco a caricarlo. Andiamo a vedere Discas, come si comporta e come si comporta lo scrivere in un campo di test. Sono andato troppo in basso, dove sono i commenti. Eccoli qua, sta caricando Discas, vedete, aspettiamo un attimo, vediamo come si comporta. Quando abbiamo siti pesanti e non impaginati in una colonna come il mio, devo dire che non è velocissimo il browser. Vedete però nel campo di testo riusciamo a scrivere tranquillamente senza problemi, magari vi faccio vedere anche velocemente il sito solito del Corriere della Sera in modo che possiate rendervi conto della velocità anche su un sito un po' più pesante. Vediamo se avevo attivato il desktop mode. Sì, ok. Ci spostiamo, vedete. Borse affondano, Milano perde il 4,8%, bruttissima notizia per chi ha soldi in borsa. Io non ho un euro per piangere, quindi non ho di questi problemi. Vedete adesso si è leggermente bloccato. E questo che dicevo, allora, navigazione web per tutti i giorni, quotidiana, veramente nessun problema. Riusciamo a leggere qualsiasi sito e la leggiamo anche bene grazie al grande contrasto del display AMOLED. Se vogliamo tanta velocità, beh, qua abbiamo, avete visto anche questo ricaricamento, un filo di lag. Torniamo indietro, vi parlo di parte multimediale. Da questo punto di vista gli ultimi Samsung sono sempre abbastanza una garanzia. Messa a fuoco non velocissimo, l'avete visto adesso su Bud, dovuto tappare per mettere a fuoco. Adesso, tra l'altro, avendo tappato, ha perso la messa a fuoco automatica che ha ripreso adesso circa un paio di secondi per mettere a fuoco. Non velocissima. Ci sono tutte le modalità che Samsung ci ha abituato a mettere. HDR purtroppo non è la prima interfaccia, bisogna cliccare un tasto, interfaccia Pro con tutte le opzioni manuali da poter andare a settare. E ci sono delle fotocamere extra, degli effetti extra che si possono andare a scaricare, vedete, dallo store di Samsung. Su un cenno di carini, tra l'altro, quando si attiva l'HDR la risoluzione massima scende, non è più possibile girare a, per esempio, 9,6 megapixel in 16.9, ma si scende, mi sembra, a 6. E sensore in 4 terzi, dimensione massima proprio in quel rapporto di forma. Qua vi faccio vedere le impostazioni dei video che possono essere girati al massimo in Full HD. L'interfaccia, come sempre, non gira in orizzontale, allora noi la mettiamo in verticale, torniamo indietro, andiamo nell'album, che è il classico album di Samsung, e entriamo nelle fotografie. Bellissime le macro, vedete questa tazzina, anche la foto, questa difficile, perché luci, ombre, devo dire che è venuta molto bene. Ragazzi, segnatevi, Massimiliano l'ho incontrato per caso da Prince, intanto vedete qua la foto fatta con la camera anteriore, perché è venuto con 24 ore d'anticipo a una colazione. Io ero lì da Prince a prendere il mio solito caffè, lui viene lì e dice, ma come mai oggi non c'è nessuno? Ma perché hai sbagliato giorno? Eh vabbè, capita anche ai migliori, non spaventatevi per il prezzo di queste chiacchiere, sono veramente molto buone, ma carissime. Foto fatta senza HDR, foto fatta con HDR, vedete, migliora, ma comunque anche quella senza non è male. Macro, altra macro, veramente molto bella, anche i video sono buoni, soprattutto per quanto riguarda l'audio, lo cattura veramente bene, purtroppo manca quasi completamente la stabilizzazione. Insomma, dentro l'ascensore, senza flash, un po' di rumore video, ma comunque la foto non è male, e con flash la foto è veramente molto buona. Guardate come sono ritagliati bene i bordi della fotografia. Un nuovo ristorante, dovrò fare la recensione perché ho mangiato veramente bene. Se avete fame, stoppate qua il video, ceramica di vietri, molto bella per quanto riguarda l'apparecchiatura, un gran piatto di fusilli, broccoli e cozze, e una pasta alla siciliana veramente eccezionale. Anche questa parmigiana buonissima, guardate, sì, forse un po' unta, un po' tanto olio, e questo tiramisù, ragazzi, mi sono alzato veramente sattollo. Comunque, foto, devo dire, buone. Abbiamo, non so se l'avete intravisto durante i miei peregrinari nel menu, la radio FM, entriamo invece nel lettore multimediale per, ops, sono uscito, scusate, per ascoltare Cosa, Chi, Bublé, ovviamente. Allora, anche qua, come nel viva voce, non abbiamo un volume altissimo, ma una buona qualità. Mancano un po' i bassi, sì, ok, però, voglio dire, stiamo parlando sempre di un cellulare, dalle cuffie auricolari comunque si sente bene. Quanto costa? È costa un pochino tanto, 329 euro di listino, ma si trova già sotto i 300 street price per una dimensione di display sempre più difficile da trovare. Allora, in assoluto, va bene, ed è bello, soprattutto la parte posteriore, soprattutto in questa colorazione, ma come è 5, la mancanza di vibrazione sui tasti funzione qua davanti, e nella tastiera Samsung mi infastidisce. Batteria, parte telefonica e la fotocamera sono però decisamente a fuoco. Anche il display è bello, peccato per la mancanza di sensore di impronte, che avrebbe dato quel valore aggiunto che in A3 è però dato da materiali e aspetto premium. In assoluto, forse un S5 Nio è meglio, ma i 4,7 pollici sono, secondo me, una dimensione davvero centrata. Forse è stato solo un filino più veloce. Un saluto da Andrea Galeazzi.com Dovete sapere una cosa, finito di girare il video, vado a guardare il timer e lo dico, ma sono stato in 10 minuti, ragazzi, quanto sono diventato bravo? In realtà no, mi ero dimenticato, Real Racing, che usiamo un po' come benchmark per la velocità di apertura dei programmi, quindi per la memoria interna e per il processore. Beh, potevo anche evitarlo, potevo dirmi che non gira proprio benissimissimo, ha qualche lag, anche se gira a dettagli massimi. La Mali T720 è la scheda video, come Facebook, come Twitter, ci hanno messo un pochino ad aprirsi, anche Real Racing ci mette un pochino ad aprirsi, vedete? Però non è neanche un tempo esagerato. Facciamo la calibrazione, destra, sinistra, centro, goal, ok? Ok, vedete? Dettagli al massimo e pronti per i micro lag, ok? Partiti, vedete? Frame rate abbastanza basso, in realtà adesso anche qualche maxi lag. Ci ho giocato tanto a questo Real Racing con questo A3 per farlo scaricare, in realtà, e non andava tra l'altro così laggoso, quindi probabilmente c'è qualcosa in background o forse la RAM non ben gestita, il giga e mezzo di RAM forse non è sufficiente. Allora, la chiosa che avevo detto prima e le conclusioni rimangono quelle. Forse è stato un pochino più veloce. Ciao! Ciao!